È un possibile candidato governatore con una lista civica marchigiana presente in tutte le province. Dopo essere stato il sindaco della città di Fano per dieci anni e attuale consigliere comunale, Stefano Guzzi scende nuovamente in campo e si rimette in gioco per le elezioni regionali del prossimo maggio. Io penso innanzitutto che quando un ente pubblico, in questo caso una regione, per troppi anni è governata dallo stesso partito, tende a diventare un luogo dove si discute poco, ci si confronta poco. Il partito egemone, in questo caso il partito democratico, diventa supponente, diventa un partito arrogante e infrange molto spesso le regole stesse della democrazia e della partecipazione. Secondo Guzzi dunque un ricambio può essere solo che positivo. Se guardiamo la sanità, proseguito in diverse parti della regione è pessima, quindi un governo che non ha dato le risposte necessarie che i cittadini meritavano. Poi ha portato l'esempio del lungomare. I porti sono intasati, ha detto, e non navigabili. La pesca è in difficoltà, così come la cantieristica e il turismo. E ha proseguito. Non abbiamo difeso a sufficienza le coste, ogni volta che fa una mareggiata butta all'aria tutto il lungomare. Abbiamo le colline più belle d'Italia, lo abbiamo riempito di fotovoltaico a terra che ha deturpato completamente il paesaggio. Cioè, se noi pensiamo che il Partito Democratico che ha fatto tutte queste cose possa e debba continuare a governare anche in futuro, vuol dire che non abbiamo capito un granché. Quindi c'è un progetto concreto? Le liste civiche delle Marche sono diverse, sono presenti un po' in tutte le realtà territoriali. Esprimono anche amministratori come il sindaco di Iesi, il sindaco di Urbino, in passato anche il sindaco di Fermo che è comunque un componente del civismo regionale. ci sono voluto mettere insieme, hanno cominciato a dialogare, per dare uno stimolo proprio a tutte le altre forze che possono insieme creare un'alternativa vera. Io non ho nessuna presunzione, intanto facciamo da stimolo a tutte le altre forze che le vedo un po' dormienti in questa fase, diciamo, dell'opposizione. E soprattutto vogliamo capire se ci sono le condizioni di creare un'alternativa vera. Questo è il nostro obiettivo e ci stiamo lavorando fino in fondo. C'è dunque la possibilità di una doppia candidatura in famiglia, ma dipenderà dal progetto che si vorrà mettere in campo, ha riferito Aguzzi. Se sarà il candidato presidente della regione di un'ampia coalizione, della quale farà parte anche Forza Italia, come l'ex sindaco auspica, Elisabetta Foschi rifletterà e deciderà di conseguenza. Se invece non sarò io candidato perché comunque tutta l'alleanza verterà su un'altra persona, eccetera, è certo che se candiderà e secondo me se la caverà anche molto bene.